Siamo qui per noi in esclusiva a Geppi Cucciari, un grandissimo personaggio della tv italiana. Geppi, una tua impressione su questa grande manifestazione? Una manifestazione che celebra le sue operazioni tra chi va sul bacio, sulla scena, chi va davanti alle telecamere, chi c'è alle spalle. Mi sembra il giusto riconoscimento a questa unione di regia. Un giusto premio al programma di Geppi Cucciari, ci vorrebbe anche un premio per te, un grande presentatrice dai mille volti. Ah, guarda, già si fatica qualche volta a portarne avanti uno, io ci provo col mio. Ti ringrazio, spero che questa pulidricità che tu mi regali sia reale, grazie. Un consiglio ai giovani per arrivare dove sei arrivata tu, qual è l'ingrediente da trovare, da perseguire? Guarda, la prima cosa che ti chiederei è dove stai e cosa vuoi fare. Io stavo in Sardegna, volevo fare quello che faccio, se fosse una stalao ce l'avrei mai fatta poi. Voglio avere una qualche capacità e sapere come gestirla e amministrarla. Un po' di coraggio e tanta fortuna. Ringraziamo Geppi Cucciari, questa era Campus Waiti. Ciao, ciao ragazzi. Grazie a tutti.